capigliatura nuova foto e posto subito quello che posta qualsiasi cosa è un essere noioso manda un sms che ho scritto o foto posta questo aiuta il povero salvatore noi siamo anonimus signore e signori benvenuti dimmi che sei calda dimmi che sei calda manda anche tu un sms che ho scritto filmare da tutte le ore fra poco vai in onda aiuta il povero salvatore infa fatti